In vista dei ballottaggi per Milano e Napoli, Berlusconi si prepara a rompere il silenzio con una raffica di interviste. Calderoli annuncia una sorpresa del rinato asse premier e bossi per Milano, dove nel loro duello Moratti e Pisapia, dopo le polemiche, puntano ora sui contenuti. Scambio di accuse in diretta TV tra gli aspiranti sindaci di Napoli, De Magistri si ha fatto danni, usando poi il paracadute pubblico per salvarsi, attacca l'esponente delle PDL elettieri. Ti sei sempre fatto accompagnare da Cosentino, replica l'ex PM. La Nato affonda la flotta di Gheddafi, l'Aleanza Atlantica ha distrutto otto navi da guerra in una serie di raid notturni, ma il colonnello non molla e torna ad apparire in TV senza però fare dichiarazioni, mentre incontra un funzionario. Il Tribunale di New York concede gli arresti domiciliari a Dominique Strauss-Kahn. La cauzione è di un milione di dollari in contanti e cinque in azioni. L'ex direttore del Fondo Monetario dovrà indossare un braccialetto elettronico per essere sempre sotto controllo. E Gerusalemme dice no al piano Obama per il Medio Oriente che prevede il ritiro entro i confini ribaditi dall'ONU nel 1967. Gelo anche dai palestinesi di Hamas. Oggi l'incontro tra il presidente americano e il premere israeliano Netanyahu. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della Sette. Dunque Silvio Berlusconi torna a parlare e questo pomeriggio registrerà una serie di interviste in vista del ballottaggio. In ballo, come sapete, c'è l'importante e fondamentale sfida di Milano. Il ministro Calderoli ha annunciato una grande sorpresa che farà cambiare l'idea a tutti i milanesi. Per il momento tra PDL e Lega è tregua, ma il dopo Berlusconi sembra uno scenario probabile, uno scenario possibile. Le servizie di Laura Perego. Il silenzio più lungo e assordante sul dopo voto, quello di Silvio Berlusconi, finirà questa sera con una raffica di interviste ai telegiornali serali di Rai e Mediaset. Il premier alla fine ci mette la faccia, almeno in tv, mentre c'è incertezza sulla sua presenza a comizi e iniziative soprattutto a Milano, dove Calderoli annuncia una grossa sorpresa del rinato tandem Berlusconi-Bossi, capace addirittura di ribaltare da solo al ballottaggio il vantaggio di Pisapia sulla Moratti. I due alleati hanno cercato di mostrarsi uniti ieri dopo l'incontro del Dijelo a Palazzo Chigi. È andata benissimo, ha detto Bossi e ha fatto sapere Berlusconi. Il capo del carroccio si è preso le sue colpe per la disfatta lombarda, ha chiesto ai suoi di stare buoni con il premier, agitando il fantasma di quel matto di Pisapia da sconfiggere per evitare che Milano diventi Zingaropoli e Islam. Insomma, la linea è sempre quella del Vapian, intimata dal senatore a un militante che gli chiedeva di mollare il cavaliere. Ma la tregua è armata, fino al 30 maggio. Per dopo Bossi alza la posta, parla di un nuovo progetto di governo, riforme, cambiamento. A discuterne a Palazzo Chigi si è portato Calderoli e Tremonti. Il superministro resta la punta di diamante della strategia leghista. Il nuovo non può che essere politica economica, con la mille volte evocata riforma fiscale. Tremonti ha già annunciato un fisco meno chiuto, meno ganasci fiscali, meno interessi passivi addebitati. Tremonti all'attacco di Tremonti, ironizzano gli avversari interni. Libero parla di una cena segreta, Giulio Umberto, dopo lo shock elettorale, con tutto lo stato maggiore leghista e la prestigiacomo. Futuro in tavola, sul piatto c'è il cav, racconta il quotidiano. E al di là delle dichiarazioni di facciata, il dopo Berlusconi sembra uno scenario possibile, soprattutto se il centrodestra perdesse Milano. Un conforto alla maggioranza potrebbe venire dal ritorno nel campo PDL e Promoratti a Milano di Urso e Ronchi. Oggi all'Assemblea di Futura e Libertà le prese con la scelta di Fini, vincolante per tutti, di non schierarsi ai ballottaggi. Il centrosinistra si spende e spera di continuare a festeggiare anche dopo il secondo turno. Il bipolarismo appare rafforzato, il corteggiamento di Casini meno impellente, mentre si riapre il capitolo primario e Vendola le rimette in campo per la futura premiership dell'opposizione. E anche Veltroni le rilancia. E allora andiamo a Milano in attesa di questa sorpresa che Berlusconi e Bossi faranno ai milanesi. Letizia Moratti si gioca le ultime carte e chiede anche un nuovo confronto televisivo con lo sfidante Pisa Pia, che però dice no. Il servizio da Milano è di Silvia Borromeo. Che pensi mi? A far cambiare idee ai milanesi ci penseranno Bossi e Berlusconi, con l'asso nella manica per un finale di partita che si gioca sul filo di lana. Letizia Moratti intanto sta calando alcune briscole, puntando anche sulle tasche dei milanesi. La prima, l'abolizione dell'eco passa da ottobre per i residenti. Era un esperimento che possiamo considerare finito, dice, perché inquinamento, traffico e incidenti sono diminuiti. L'annuncio arriva alla fine di una giornata non semplice per il sindaco, che alla sua prima uscita pubblica dopo la sconfitta del primo turno, ha incassato, insieme a Formigoni, le contestazioni di un gruppo di disabili. Lo sfidante Giuliano Pisa Pia non manca di ricordare che l'eco passa è stato un cavallo di battaglia della giunta Moratti e che l'inquinamento nei primi mesi del 2011 non è mai stato così alto da quattro anni. Ma ecco il rilancio di Palazzo Marino, una moratoria delle multe. Lo dice a mezzabocca stamattina Onibus Davide Boni, presidente leghista del Consiglio regionale. Verrà fatto un ragionamento diverso, glielo dico in anteprima, anche sulle multe, sugli errori che sono stati fatti a Milano, in modo che così ci chiariamo prima. Che vuol dire sulle multe, Boni? Che vuol dire sulle multe? In che senso? Meno multe che sono state date nell'ultimo periodo, visto questi errori che ci sono stati. Perché ci sarà una sanatoria, un colpo di spugna. Molto probabilmente, molto probabilmente sì. Annuncio contro annuncio, la sfida per il momento resta sui punti dei programmi, con una Moratti disposta a chiedere scusa al suo avversario, duramente attaccato durante l'unico faccia a faccia televisivo, a patto che Pisa Pia torni a confrontarsi con lei sulle cose da fare. Il candidato del centro-sinistra replica chi si scusa non può porre condizioni, escludendo per ora un nuovo confronto televisivo. E l'altra importante partita che si gioca è a Napoli. Oggi c'è stato un faccia a faccia televisivo tra i due candidati, Lettieri e De Magistris, che si sono confrontati sui temi più scottanti e non sono mancati pesanti. Accuse da entrambi, il servizio è di Andrea Molino. A Napoli il faccia a faccia tra i due candidati alla poltrona di sindaco non ha riservato il colpo basso dell'ultimo minuto, come è accaduto a Milano. Negli studi di Sky, sulla scia di rifiuti, lavoro e legalità, i due sfidanti se ne sono date da subito. Luigi De Magistris, ex magistrato, europarlamentare di Pietrista, vincitore a sorpresa della sfida a sinistra con il candidato ufficiale del PD Morcone, incalza subito l'avversario Gianni Lettieri, l'imprenditore candidato del PDL che è in campagna come uomo forte Nicola Cosentino. Quello che penso di Lettieri è un imprenditore di soldi pubblici, non è un imprenditore. C'è una persona che andando a braccetto con la politica trasversale, quella che lui adesso ha chiacchiere e critica, ha preso contributi pubblici, ha messo in cassa integrazioni i lavoratori, ha fatto fallire le aziende e adesso si vuole presentare con quello che risana Napoli. È esattamente il contrario, è quello che insieme a Cosentino la metterà nelle braccia della camorra e farà fallire questa città. Questa è quella che è la contrarreplica. Si continua a tricciare dietro l'immunità parlamentare. Lui ha detto che si dimetteva, perché non si dimette e rinuncia ai 25.000 euro che prende al mese come stipendi d'euro parlamentare. Per favore. De Magistris ha utilizzato i soldi pubblici per fare inchieste che non l'hanno portato da nessuna parte. Tra programmi, nomi di possibili assessori e progetti di città il confronto va avanti. Non chiedo apparentamenti, non voglio apparati di partito, chiedo il voto dei cittadini per cambiare Napoli, dice De Magistris, rinfacciando all'avversario la discesa a Napoli di Premier e Ministri per la sua campagna elettorale. Sono venuti loro, non li ho chiamati, io rispondo ai lettieri, ma per Napoli sono pronto a litigare anche con loro. L'ultimo scontro, appena prima del fischio finale. No, perché lei dice sempre prestanome di Cosentino, ma cosa vuol dire? Cioè prestanome di un politico? No, glielo spiego, è colui che ha presentato lettieri a Berlusconi quando è stato candidato e in tutti i manifesti della campagna elettorale... Per favore, però dovrei parlare, perché se non è... Per favore, per favore... E l'ho accompagnato in tutti i manifesti per la città, per mano. L'appello agli elettori è quello di votarmi, specialmente i moderati e i riformisti veri della città di Napoli che non possono permettere di affidare la città in mano a una persona che non ha fatto neanche bene il magistrato e che anzi ha distrutto famiglie, mentre invece io ho creato posti di lavoro e questo è un dato di fatto. C'è un messaggio che ha inviato il capo dello Stato al leader della CGL Susanna Camusso in occasione dell'anniversario dell'assassino del gius lavorista Massimo D'Antona avvenuto 12 anni fa per Napolitano corre oggi più che mai un diritto del lavoro inclusivo ed equo attento alla tutela dei diritti della parte più debole contrattualmente. Massimo D'Antona scrive il Presidente ha pagato con la vita per il folle criminale accanimento del terrorismo brigatista contro la cultura riformista, la sua coerenza nella ricerca di innovazioni responsabili e graduali. Infine lancia un appello per l'unità sindacale. E apriamo la pagina degli esteri con il conflitto in Libia. Nella notte ci sono stati pesanti bombardamenti della Nato sui porti di Tripoli, OMS e Sirte che hanno distrutto diverse navi da guerra libiche e intanto dopo 20 giorni di silenzio Gheddafi è riapparso in televisione. Allora vediamo il servizio di Paola Mascioli. A giudicare dalle immagini Muhammad Gheddafi goda di buona salute. Abiti tradizionali neri con copricapo in tinta e immancabili occhiali da sole scuri il colonnello si è fatto riprendere in una sala dotata di tv. Non un dettaglio qualsiasi perché mentre l'operatore filmava l'incontro tra Gheddafi e un suo emissario appena rientrato da una missione a Mosca lo schermo rimandava altre immagini del Raiss che riportavano la data di ieri, 19 maggio. Un messaggio chiaro a tutti coloro che per 20 giorni lo hanno dato per morto, ferito o addirittura fuggito dal paese. Invece il Raiss è riapparso, non ha proferito parola ma si è fatto vedere. Questo era il suo scopo, mettere a tacere le voci che lo davano per scomparso. Il giallo sulla fine di Gheddafi era cominciato il primo maggio. Gli aerei della Nato avevano bombardato un bunker nel quale era morto il figlio minore Saif al-Arab. Il colonnello era apparso alla televisione la sera prima minacciando di portare la guerra in Italia, poi dopo le bombe era sparito. Almeno fino a quando, dopo una decina di giorni, la TV libica non aveva mandato in onda un incontro tra Gheddafi e i capi tribù. Immagini che però in molti non avevano ritenuto attendibili. Intanto si è aperto un altro giallo, quello sulla sorte della moglie Safie e della figlia Aisha che Hillary Clinton dà per fuggite in Tunisia. Le autorità del paese confinante hanno smentito la presenza delle due donne, ma il segretario di Stato USA è convinta della loro fuggia. Sul terreno intanto la Nato ha dato un'altra batosta a regime. I bombardamenti della notte scorsa sui porti di Tripoli, Homs e Sirte, hanno distrutto otto navi militari. Un attacco necessario, sottolinea un comunicato dell'Alleanza, per fermare l'escalation della Marina del Raiz contro i civili. E oggi Dominique Strauss-Kahn lascerà il carcere dopo le dimissioni dalla direzione del Fondo Monetario Internazionale. Gli è stata concessa infatti la libertà su cauzione. Andrà ai domiciliari, ma sarà sottoposto ad una stretta sorveglianza. Il procedimento penale però sarà ancora molto molto lungo. Il servizio di Nifacola Santo. Rischia di trascorrere il resto della sua vita in carcere Dominique Strauss-Kahn per i sette capi di imputazione che pendono sulla sua testa. Il più grave è lo stupro. La pena potrebbe superare i 70 anni di reclusione. Di sicuro il processo che inizierà il prossimo 6 giugno non risparmierà colpi di scena. L'ormai ex capo del Fondo Monetario Internazionale potrà preparare la difesa assieme ai suoi avvocati, tutti i principi del foro di Manhattan, dalla casa new yorkese di sua figlia Camille, che era in aula ieri assieme alla moglie di Strauss-Kahn, Anne Sinclair, per seguire la lunga l'audienza terminata con la concessione degli arresti domiciliari. Il 62enne supermanager e politico francese lascerà infatti tra poco il carcere di Rikers Island dove era stato rinchiuso sabato sera con l'accusa di aver stuprato una cameriera del Sofitel. Così ha deciso il giudice Michael Obus che ha accolto la richiesta di libertà su cauzione, un milione di dollari in contanti più altri cinque in azioni come assicurazione in caso di fuga. Ed è proprio per evitare che Strauss-Kahn possa scappare come, secondo l'accusa, avrebbe tentato di fare sabato pomeriggio quando la polizia lo ha fermato a bordo di un volo diretto a Parigi che il giudice ha imposto che indossi un braccialetto elettronico e che venga sorvegliato 24 ore su 24 da una guardia del corpo armata a sue spese 200.000 dollari al mese una libertà conquistata a carissimo prezzo. Gli inquirenti intanto stanno ricostruendo l'implicato puzzle dei fatti. attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del Sofitel ma soprattutto a partire dalle tracce di DNA rinvenute nella suite 2806. La presunta vittima la 32enne cameriera originaria della Guinea è stata sottoposta ad un esame medico legale così come Strauss-Kahn. E ovviamente c'è attesa per il successore di Strauss-Kahn alla guida del Fondo Monetario Internazionale in pole position c'è la francese e la garde ma i paesi emergenti come Cina India e Brasile spingono per avere un loro rappresentante intanto oggi c'è una nuova riunione dell'FMI sul caso Portogallo. Il servizio è di Paolo Luzzi. Il terremoto giudiziario che ha investito l'ormai ex direttore generale dell'FMI Strauss-Kahn sta provocando uno tsunami all'interno del più importante organismo economico mondiale che rappresenta oggi 186 stati membri. È infatti braccio di ferro tra la Cina che guida l'ascesa politica delle economie emergenti di cui fanno parte anche India Brasile e Russia e l'Occidente che detiene le maggiori quote partecipative. Da sempre la guida del Fondo Monetario è affidata all'Europa una tradizione che il vecchio continente intende assolutamente far rispettare e per questo sta cercando di equalizzarsi attorno al nome del ministro dell'economia francese Christine Lagarde. Anche la cancelliera Angela Merkel molto critica con la politica di mutuo soccorso verso i paesi in crisi voluta proprio dall'ex capo dell'FMI Stroskan conferma l'esigenza di una guida europea a prescindere dalle aspettative tedesche considerato che la Germania ha ammesso di non disporre di un proprio candidato adeguato ai nomi circolati tra cui anche quello di Jean-Claude Trichet sponsorizzato dall'Olanda e prossimo a lasciare la direzione della BCE al nostro Mario Draghi. Oggi l'FMI si riunisce sul caso Portogallo che dopo Irlanda e Grecia scricchiola sotto il peso di un debito ormai fuori controllo. L'occasione servirà per serrare le fila come richiesto dagli Stati Uniti che insistono per una rapida definizione del candidato. Un'asse fra Europa America e altri paesi avanzati sarebbe infatti ora sufficiente a far passare con il 51% il nome europeo anche in essenza di un ampio consenso come previsto dallo Statuto del Fondo. Il governo brasiliano che vuole tirare nella cordata dei paesi emergenti anche il Sudafrica ha scritto una lettera ai colleghi del G20 dichiarando che ormai è passato il tempo in cui era appropriato riservare il posto ad un europeo. La Cina si dice invece disposta a non creare problemi sulla nomina del direttore purché si riveda tutta la struttura del top management di cui i membri permanenti sono oggi Stati Uniti Giappone, Germania Francia e Regno Unito. Torniamo ai fatti italiani e fatti economici italiani perché segna una ripresa alla produzione industriale secondo l'Istat che ha diffuso i dati di marzo una buona notizia però in parte guastata da una ricerca che riguarda il rapporto tra il nostro governo e le imprese e questa ricerca è stata commissionata dai due più importanti giornali economici inglesi il servizio di Marco Fratini Chissà come la prenderà Tremonti sembra proprio un colpo basso lo studio di Financial Times ed Economist non proprio due giornali qualunque dice che il governo italiano è uno dei meno business friendly del mondo cioè uno di quelli dal peggior atteggiamento nei confronti delle imprese vero falso che sia certo è che il giudizio non è confortante e arriva nel giorno in cui almeno statisticamente l'industria italiana manda invece un bel segnale di ripresa a marzo il fatturato ha evidenziato un aumento del 2% mensile che supera il 12% a livello annuale per gli ordinativi è andata anche meglio oltre l'8% rispetto a febbraio e un più 21,2% in un anno che non passa certo inosservato un tale balzo non accadeva dal 2006 prima che la crisi tagliasse le gambe numeri buoni stavolta anche Confindustria magari apprezzerà a dare il segnale e il mercato estero l'Italia ha ripresa a esportare bene in particolare tirano tecnologia metallurgia e chimica cioè i cosiddetti ben intermedi che servono quindi alla creazione di altri prodotti indicazione importante perché significa che c'è un ciclo che si è rimesso in moto purtroppo non è così nel settore dei mezzi di trasporto e dell'auto qui c'è ancora un segno meno nel fatturato la ripresa comunque sta arrivando sul serio i dati sono una conferma alla crescita dice il ministro Romani che non dimentica di citare il decreto sviluppo e lo stesso studio non certo tenero con l'Italia realizzato su un campione di 1500 top manager internazionali dice che due su tre nella ripresa ci credono davvero così come credono che Canada, Stati Uniti Gran Bretagna Germania, Brasile e Giappone sono le più apprezzate per il loro comportamento con l'impresa la classifica delle più ostili invece ci vede secondi superati solo dalla Russia e siamo comunque fanalino di coda nel G7 nei grandi sono addirittura più simpatiche di noi Cina e India inutile ricordare che i tentativi di stoppare la scalata di Lactalis sulla Parmalat anche con un paio di decreti magari un peso sul sondaggio l'hanno avuto e non a caso in graduatoria anche la Francia che per simpatia non ha mai brillato sta messa meglio e ha lasciato scontenti israeliani e palestinesi soddisfatti tutti gli altri il discorso di Barack Obama al mondo arabo nel quale ha annunciato il piano per il rilancio della pace in Medio Oriente e oggi alla Casa Bianca faccia a faccia tra il presidente statunitense e il premier israeliano Netanyahu il servizio di Damiano Ficoneri 70 anni di scontro metro per metro e nessuno pronto a cedere se non alla forza questo è il conflitto palestinese dunque ognuno dei protagonisti ha trovato da ridire sullo storico discorso del presidente Obama ieri a Washington primo degli scontenti proprio Israele con Netanyahu ora in viaggio verso gli Stati Uniti per chiarire direttamente con il presidente americano la portata della frase simbolo del discorso i confini tra Israele e Palestina si dovranno basare su quelli stabiliti nel 67 in modo da mantenere in sicurezza entrambi gli stati la Palestina dovrà essere uno stato sovrano e non militarizzato ma in Washington si era spinta a chiedere la totale cancellazione di 40 anni di politica di sicurezza ed espansione nei territori uno shock commenta la stampa israeliana stamattina confini impossibili da difendere è la prima risposta di Netanyahu scontenti anche i palestinesi trastagliati come sempre nelle posizioni Hamas ripete che non riconoscerà mai Israele Abu Mazen legge nella tempistica del discorso di ieri la volontà di bloccare l'annuncio della creazione unilaterale dello stato palestinese durante la prossima assemblea dell'ONU protagonisti a parte il mondo comunque applaude in particolare la frase dedicata alla primavera araba per sei mesi abbiamo assistito ad uno straordinario cambiamento che ha travolto tutto il Medio Oriente ed ora il Nord Africa piazza dopo piazza città dopo città paese dopo paese la gente ha chiesto il rispetto dei propri diritti per questi stati l'America annuncia un piano Marshall a sostegno di economie e riforme e ribadisce che l'intervento occidentale non si ferma qui Obama intima al regime siriano di guidare una transizione riformista e farsi da parte la risposta di Bashar Assad riporta decenni di rapporti difficili tra Washington e Damasco la solita America arrogante che vuole decidere tutto per tutti tra Bush e Obama non c'è alcuna differenza e ce n'è anche per Gheddafi due leader sono caduti e altri ne seguiranno il prossimo si chiama Muammar Gheddafi il tempo lavora contro di lui da Tripoli le parole del portavoce del colonnello spiegano esattamente perché in Libia oggi ci sia la Nato Obama dice il portavoce di Gheddafi è delirante e c'è una nuova polemica che infiamma l'informazione televisiva Sky Italia ha deciso di spegnere il canale ideato dal Gore Current TV fiore all'occhiello degli approfondimenti il premio Nobel vicepresidente degli Stati Uniti lancia un'accusa pesante e vogliono ingraziarsi Berlusconi allora sentiamo questa nuova polemica da Luca Giannelli se gli italiani chiudono programmi lo abbiamo visto ieri con quello di Sgarbi gli stranieri chiudono direttamente le reti è il caso di Current TV Italia il canale che Sky di Rupert Mardoch ha deciso di tagliare forse già a luglio trasformatosi all'istante in caso politico lo sarebbe diventato lo stesso figuriamoci ora in fase di supplementari elettorali ed ecco così al Gorsi lui l'anti Bush prima di Bush il Nobel per la Pace l'apostolo dell'ecosostenibilità fondatore sei anni fa di questo network indipendente eccolo a prodare dal nostro Santoro ad anno zero per denunciarne appunto la chiusura dietro la quale si anniderebbero anche a sentir lui dei doppi fondi tutti italiani a pesare sulla decisione ci sarebbe anche infatti la volontà di Mardoch di ingraziarsi il presidente del consiglio Berlusconi con il quale starebbe trattando da tempo per approdare sul digitale terrestre ma soprattutto il nuovo programma del giornalista Keith Olbermann i nostri amici di Sky Italia con i quali collaboriamo e che sono persone meravigliose per carità ci hanno detto che hanno ricevuto ordini dalla News Corp degli Stati Uniti d'America perché si erano arrabbiati perché noi stavamo lanciando Keith Olbermann questo giornalista indipendente che è sempre stato critico sulla News Corp io credo che non sia sbagliato questa cosa che sia un abuso di potere tanto basta per ritrovare puntualmente sui giornali italiani di oggi le due squadre di sempre ideologicamente fieramente schierate di qua i sostenitori di là i detrattori Sky invece per rispondere a Al Gore ha puntato tutto su argomenti tecnico-economici che sarebbero all'origine della decisione la richiesta da parte di Current Italia di corrispettivi pari al doppio di quelli attuali con un calo di ascolti invece nel 2011 nel prime time del 40% la pagina sportiva con il calcio mercato due argentini infiammano il mercato sono Pastore del Palermo e Tevez del Manchester City ma si preannunciano grandi novità anche sulle panchine della Serie A il servizio di Ugo Francicanava Roma no grazie si risolve nel giro di poche ore l'ipotesi Rudy Garcia a un passo dal titolo francese con il suo Lille quale pietra angolare della rifondazione giallorossa resterò a Lille al 100% fa sapere Garcia la pista francese resta però calda Deschamps rimane uno dei nomi più gettonati senza escludere nemmeno Wenger anche se sulle strade che portano alla Roma si sonda Stefano Pioli attuale allenatore del Chievo da pochi minuti a colloquio con il nuovo direttore sportivo giallorosso Sabatini con l'arrivo di Conte alla Juve Del Neri sembra destinato alla neopromossa Atalanta Mazzarri che ha visto solitare ancora il suo incontro risolutore con De Laurentiis e insidiato da Gasperini corteggiatissimo anche da Zamparini che vede difficilissimo il rinnovo con Delio Rossi insomma è il toto allenatore a rimpinguare le scarne note di calciomercato come conferma anche il presidente del Cesena proprio oggi separatosi consensualmente da Ficcadenti tra panchine staff tecnici dirigenziali che io credo che ci sarà da divertirci quest'estate sul fronte giocatori poche novità la Juventus tiene nel mirino Aghero 30 milioni pronti per l'acquisto senza però distogliere gli occhi da Benzema e Tevez l'Inter a Malazard nel senso del gioiellino del Lille rafforza l'offerta per Sanchez 15 milioni più a vario titolo Mariga e Coutinho mentre sale il nome di Banega centrocampista argentino di passaporto italiano in forza al Valencia il Milan sembra aver identificato in Asamoah il mister X sussurrato da Galliani ma alla fine è più facile dire chi non si muoverà Cavani ha rinnovato con il Napoli fino al 2016 mentre Zamparini blinda pastore e se ieri il presidente rosa nero aveva promesso di triplicargli l'ingaggio oggi spara ancora più forte non c'è prezzo non è in vendita ma 40 milioni è l'acconto Zamparini alza l'asticella o meglio la base d'asta d'altronde in giro c'è sempre chi ha soldi da spendere uno tipo lo Sheik al Mansour ad esempio che oggi ha offerto 150 milioni di euro al Real Madrid per Cristiano Ronaldo e 17 milioni di anni di ingaggio al portoghese e c'è una notizia e c'è una notizia che riguarda Lance Armstrong le sette volte vincitore del Tour de France ancora al centro di accuse di doping a puntare il dito contro il texano un altro ex compagno di squadra in un programma televisivo e le servizie di Umberto Nigri nuove rivelazioni shock su Lance Armstrong a farle e il suo ex compagno di squadra Tyler Hamilton vincitore di una medaglia d'ore alle Olimpiade di Atene del 2004 poi squalificato per doping l'ex ciclista ritiratosi nel 2009 ha rivelato nel programma televisivo americano 6 Minutes 60 minuti che Armstrong avrebbe preso sostanze dopandi prima del Tour de France del 1999 del 2000 e del 2001 ho visto leppo nel suo frigo l'ho visto farsi più di un'iniezione di questa sostanza dichiarato Hamilton che ha anche raccontato che a fare uso di sostanze dopanti era tutto il gruppo Last Armstrong ha fidato la risposta al suo avvocato Mark Fabiani Hamilton ha raccontato solo bugie ha sottolineato Fabiani il motivo l'intenzione di Tyler di scrivere un libro sul doping nel ciclismo insomma secondo l'avvocato di Armstrong le accuse di Hamilton sarebbero solo un modo per attirare l'attenzione di qualche editore che gli pubblichi il libro non è la prima volta che il campione americano viene accusato di aver fatto uso di sostanze dopanti accadde un anno fa anche allora a sostenerlo fu un ex compagno di squadra John Landis che raccontò con date e dettagli precisi in che maniera Armstrong avesse imparato a fare trasfusione di sangue ad assumere Epo poi a puntare l'indice contro il plurivincitore del Tour de France è stato Mike Anderson suo ex meccanico e assistente personale la risposta di Armstrong è sempre stata la stessa ho fatto decine di controlli e nemmeno una volta mi hanno beccato e sino a prova contraria come dargli torto ci fermiamo per una pausa tra poco con eventuali aggiornamenti alle notizie bentornati prima di chiudere ci sono degli aggiornamenti che arrivano dalla Siria in questo momento in molte città delle paese ci sono delle rivolte contro il regime del presidente Assad migliaia di persone sono scese in piazza in due quartieri di Damasco e secondo degli attivisti due manifestanti sono stati uccisi in una rivolta nella città di Oms intanto ci sono sempre notizie che riguardano la Siria perché il segretario generale della Nato Rasmussen ha dichiarato che la Nato non ha alcuna intenzione di intervenire in Siria viene condannata naturalmente la brutalità delle forze di sicurezza siriane il pugno di ferro contro i civili ma l'unica strada possibile per il paese ha giunto Rasmussen e venire incontro alle richieste legittime del popolo siriano e permettere una transizione pacifica verso la democrazia si pensa a delle sanzioni europee contro il presidente Assad da prendere eventualmente nella prossima riunione di Bruxelles queste erano dunque le ultime notizie che arrivano dalla Siria il telegiornale termina qui vi ricordo l'edizione delle venti anche il nostro sito tgla7.it grazie per averci seguito e buona giornata grazie per averci seguito